A qualcuno ha sorpreso parecchio il ritorno di Ferrigno a Catania, dopo la parentesi messinese invece è tutto reale Ferrigno e qui è pronto per lavorare per il Rosso Azzurro? Prontissimo per lavorare, ha archiviato le tre annate a Messina, ha fatto lo stesso un buon lavoro tranne purtroppo lo scorso anno che purtroppo per molte vicissitudini abbiamo passato una stagione molto travagliata, ma ora siamo pronti per partire con il Catania e come si diceva prima in conferenza stampa dobbiamo scrivere la storia, da oggi bisogna scrivere la storia nuova del Catania lasciandoci alle spalle tutto quello che è successo sia di buono che di cattivo, tra virgolette e bisogna scrivere da oggi in poi una bellissima pagina sul Catania perché Catania non è solo una squadra di calcio ma Catania è una città dove merita rispetto e dove non tutti si possono appoggiare in una situazione così difficile purtroppo il calcio è anche questo, dove uno è debole, si appoggiano un po' tutti ma noi abbiamo le spalle larghe per ripartire e buttarci tutto alle spalle come anche prima diceva Bonanno, non è la prima volta che una società si trova in una situazione del genere mi auguro che sarà l'ultima, ma io ricordo anche una parabola di Gesù che disse ma questo è un po' nella vita, non solo nel calcio, chi non ha peccato scagli la prima pietra perciò quando succedono queste cose è meglio stare zitti e guardare al futuro tutti difficile parlare di ambizioni e di obiettivi in questo momento? noi faremo il massimo delle nostre possibilità facendo prima un mercato anche in uscita noi abbiamo già individuato gli obiettivi, già abbiamo le idee chiare perché è quasi un mese che si lavora qualcosina in più e non in meno, abbiamo individuato gli obiettivi quindi la forza che dà il Catania Calcio di portare anche dei ragazzi dalla Serie B come abbiamo fatto a breve arriverà a Nunzella proprio la forza nostra ce l'ha dalla società, il Calcio Catania le ambizioni, noi dobbiamo stare molto con i piedi per terra dobbiamo prima di tutto azzerare questa penalizzazione che purtroppo ci è stata inflitta fino ad oggi è una zavorra che ci portiamo sulle spalle, non voglio mettere le mani avanti, assolutamente questa sarà una zavorra che purtroppo ci porteremo fino alla fine lo scorso anno la vittoria di un campionato, dei tre campionati è stata dai 74 agli 80 punti ciò significa che il Canale dovrebbe farne 90 90 punti perciò noi dobbiamo pensare alla salvezza noi faremo una squadra all'altezza della situazione prima di tutto il nostro primo obiettivo è la salvezza poi strada facendo vedremo dove si può arrivare se c'è qualcosa da fare in più si farà senz'altro perché la piazza lo permette altrimenti il nostro primo obiettivo è la salvezza ultima domanda sugli esuberi di cui avete parlato prima c'è qualcuno che ha chiesto di abbassarsi il contratto pur di rimanere a Catania oppure no? guarda purtroppo i contratti si fanno in due appena sei mesi fa sono stati fatti questi contratti ma nessuno è venuto vicino a chiederci di abbattere il contratto visto anche per demerito dei calciatori purtroppo si rischiava la retrocessione lo scorso anno però in questo momento no ci sono delle richieste da parte di varie squadre perché sono secondo me ottimi calciatori i vari Rosina i vari Maniero cioè in una situazione un po' diversa forse anche con altri ingaggi sarebbero no prime scelte primissime scelte di una squadra in via a vincere Terracciano al Cagliari è fatta? questo ne riparleremo tra un paio di giorni ok ok